Salve amici, fratelli della congrega, come va? Sono giornate nefaste, fu un'estate da questo covid che ci sta morbando, ammesso che esista, anche perché io nutro dei forti dubbi, merito, dubito. Sono spesso, anzi, lo fui in passato titubante, allora invece non tentenerei per ciò che non mi convince di me stesso, quando gli altri vogliono persuaderti di essere un tipo, così. Allora, senza fare nome e cognomi, il Mereghetti, dizionario dei film, ma sì, non me ne frega nulla, io non ho niente da perdere, frusciante. Ci sono stati degli scontri ideologici, mi ha cancellato dalle amicizie per mantenere, diciamo, quella coerenza formale tenente, cioè che si attiene al suo fare sergente, il tenente, o nulla, no, 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 vabbè, fa niente. Sì, semplicemente perché io fui in disaccordo, diciamo discordai, non mi accorai, ecco, a tutto questo coro di followers che qualsiasi cosa lui dica gli danno ragione a priori. Mi senti in merito a Mario Monicelli, lui a Serì, che è un genio indiscutibile, ma parte tra i quattro film, secondo me rimane un regista di cui posso burlarmi, sì, a mo' di amici miei, e questa non è una supercazzola. Non appartiene alla mia visione del mondo, alla mia poetica cupa, ricolma di tetragine, di metafisica, io sono un tipo trascendente, il suo cinema non è niente di trascendentale, ribadisco, usai un iperbole, molte cagate, fi mediocri. E al che avvenne, successe, che io non ebbe successo mai l'avrò, ma neanche lo inseguo, non perseguo questo obiettivo. Ecco, Fusciante si arrabbiò, si adontò, si infervorò, si riscaldò. Ma nessuno ti ha, e mi fai tristezza, perché poi, all'ennesima provocazione, diciamo, della sua massa di leccaculo, risposi in maniera dura. Ma io non prendo regole da nessuno, io sono sregolato, ho sempre vissuto, vissi e vivrò, a modo mio e secondo il mio mondo. La mia percezione di tutto, del cinema, di cui ultimamente vi devo essere sincero, non è che me ne freghi molto, mi sto distaccando dal trasfondermene a mo' di videodrome. Credo che le priorità nella vita mia siano altre, va bene catalizzare l'attenzione, il catapultarsi nel grande o piccolo schermo, ripudiato a Fusciante, in quanto osteggia Netflix in modo esecrabile, oserei dire esecrando, no? Perché naturalmente lì ha ragione, come si chiama quello lì? Si ebbe ragione ad affermare fermamente che Fusciante fin fine coltiva il suo orticello, quindi Netflix non è il male, è questo spauracchio, perché impaurirsi, essere intimiditi dal progresso tecnologico, semplicemente perché poi ciò potrebbe impoverire la base economica su cui sorreggiamo la nostra vita con la quale ci sostentiamo. Il discorso è questo, quindi quando Fusciante si scontrò con Francesco Alò, figurarsi se si fosse scontrato con me, mi sarei scatenato, e beh lì fu sfigurato, un po' detronizzato, diciamo, della sua leadership, perché Francesco Alò sicuramente è erudito, è forbito e anche così intelligente da punzecchiarlo, pungolarlo, lui diciamo mugolò o annaspò e sugli specchi s'arrampicò perché è più democratico di lui che vuole sempre avere ragione, ma la ragione si dà i matti, come solo la Fusciante mi sono beccato anche la patente di folle, mi dicono che sei un folle, sì io folleggio, sono un folletto, uso molti folletti a modi aspirapolveri, vengo polverizzato, mi carbonizzo, poi evaporo, ma non sono mai vacuo e rimanendo perennemente in vacanza, io sono così qui vacante da poter riempire la mia mente di ogni fantasia da teschio proprio, ecco, prosciugato, ecco, io ischeletrito, ambulante, chiamate l'ambulanza, tempo fa entrai in conflitto, diciamo, con un altro tizio, questo qua adesso senza fare il suo nome, il suo fu ricattato, anche qui una diatriba, diatriba, abbastanza ridicola, Stefano tu non stai bene, io non posso aiutarti, nemmeno lo voglio, nemmeno voglio, togliamo il lo, il lo, ecco, ma togliamo anche il lei, finiamola di portare rispetto a gente che poi ti ricatta, ti rinfaccia delle cose che non meriti, quindi gente che secondo me non merita, detto questo, se il frusciante vuole segnalarmi, denunciarmi, faccia pure io, parimenti, ecco, contatterò chi di dovere e insomma lo denuncerò, ecco, perché sino a prova contraria io ho espresso il mio parere, lo espressi e poi non mi piace l'ipocrisia, ecco, perché allora il trupiloquio, questo spirito popolaresco di accattivarsi le simpatie di gente non edulcorata ma un po' volgare ed uopo nel modo di fare del frusciante e quindi che venga seguito da mezzo Italia, da tutta Europa e da tutto il mondo ma se poi neanche un accredito stampa viene conseguito, insomma, seguitelo e poi diventa un fin di carpenter distretto 13, cioè ci asserragliamo, ci abbarbichiamo alle nostre convinzioni a una vita forse più convenzionale di quella criticata, spramente, velenosamente, da Mario Monicelli in un borghese piccolo piccolo, diventiamo lo specchio dei nostri spettri, no? Quindi a me non piacciono queste pose farisee perché il comunismo non esiste più, non esiste la borghesia, non ci sono più le mezze stagioni e a parlare di luoghi comuni, di proverbi, si diventa proverbialmente ripetitivi, neanche antiquati, annacquati, vetusti e forse superati e non rivoluzionari come ci si professano. Ok. Si rimane ancorati a una visione della vita del prossimo e del cinema legata all'epoca in cui si visse o forse non si visse perché ci si afflisse in una depressione bipolare e da qui la suggestione cinematografica che fu la base di una passione frusciante e riversata nel cinema e nella musica. Quindi prima di giudicare il prossimo bisognerebbe psicanalizzarsi e guardarsi dentro senza fare delle dietrologie, senza di retropensiero supporre delle cose inesistenti quando forse la propria esistenza non è che sia così vivamente vivente a proposito di Romero e della notte dei morti viventi. Ok. Detto questo, senza peli sulla lingua, questi ricatti, questi giochini, queste lotte fra tricide non appartengono al libro pensiero ma al fascismo. Allora, chiarito questo, arriviamo nuovamente alla questione di Robert De Niro. Robert De Niro mi entusiasma, mi alletta, mi estasia l'idea che quest'estate girerà forse un film estatico, Killers of the Flower Moon, il primo western, si entrerà nella videoteca di Frusciante a mo' di Clint Eastwood, Revenant, chi è il padrone di questo successo. E lui si atteggerà a mo' di Gene Ekman con la sua burbanza inquisitoria, ricattatoria, intimidatoria. Perché sono William Manley. E in passato il mio passato, da me stesso rielaborato, da chi? Da uno psicologo che vorrebbe vivisezionarmi e discendere a chi io fui per essere. Ma io non voglio essere nessuno, io non inseguo il successo, io sono di nicchia e vengo scambiato per una cornacchia, io gracchio, sì sì sì, mi gratto anche così, se mi va. Allora, detto questo, la vita di noi tutti è circoscritta al nostro vissuto, a ciò che fumo e che inevitabilmente in modo inesorabile non saremo, in quanto se fossimo stati in un certo modo non ci saremmo comportati in un'altra maniera. Quindi questi comportamenti sono riprovevoli, oserei dire, poco mirabili, non da mirare e non da prendere a modello. Allora dicevo, la Bologna, allora, vanno in giro, sciocci, vische prunirle lì. Poi appena uno si infuoca un po', si scaldano per questa qua, che tutti li riscalda, e buzù il finesse, e allora frusciante, stessa maniera, questo film è un ragazzo, e qua di là, e quella è buona, e in the game c'è quella topona di Crash, poi semmai uno lo aggredisce, oppure in maniera perentoria si pone da spietato, in maniera efferata, lui si sente ferito e osi infierire, e complimento per l'eleganza, ma guardi, falò, io ti ho visto due volte in vita meno, ti voglio più vedere, quindi non scrivermi e non cerchermi mai più. Stessa cosa che disse quell'altro. Ma li lasciamo, li lasciamo lì, li accantoniamo, e lasciamo che decantino il loro autoammirarsi in venerazione altrui da queste persone bramata, e lasciamo che tramino fra loro di lobby, di amicizie rufiane. Ecco, detto questo, arriviamo a Bobby De Niro. La questione non è omerica, non è un Troia e io, e non è Troi, la questione è Bobby De Niro. Allora, c'è una vaga rassomiglianza fra me e Bobby, per questo che tuttora continuasse il mio attore preferito, malgrado alcune scelte, direbbero questi critici, un po' della mutua, scelte alimentari, sì, sì, perché si sa che De Niro, con tutti i miliardi e milioni di dollari che ha in banca, sì, è interpretato Warwick Grant per pagarsi la grappa, forse, no? Perché... semplicemente perché si è divertito. Voleva allentare la tensione dai film troppo impegnativi, drammatici, smorzare, stemperare, ecco, la tragicità incarnata da quest'umanità piuttosto imbarazzante. De Niro può permetterselo, può essere versatile, può interpretare Pulcinella, Perlecchino, poi Campanellino, può essere un bambino, da frusciante fu accusato, ma ti sei comportato come neanche un bambino di 12 anni, anzi no, di 11, ma io direi che ne ho 7, oggi mi va di avere 7 anni, domani 3, poi 80, perché io sono senza tempo, sono attemporale, e di queste offese estemporane me ne sbatto, ecco, e in faccia sbatto quella che è la verità, quindi questa è la verità nuda e cruda, denudata, smascherata, a mo' di Joker, che viene considerato uno iellato, uno sfigato, un malato, un disastrato, non è bene reputato, ma forse è stato sfregiato a moda della prostituta, degli spietati, unforgiven, ma se ne fotte, ecco. De Niro, allora mi ricordo, mi ricordo, sì sì, allora iniziai a frequentare liceo scientifico, Sabin della scursale via Broccaindosso, e mi trovai subito a disagio, questi miei coetanei, abbastanza rapati, un po' maniaci sessuali, no, un po' depravati, debosciati, che sognavano di essere già altolocati, forse adesso si saranno laureati, sistemati, saranno ben pagati, più di De Niro forse, e allora sprofondai nella notte delle mie insonnie da Travis Bickle, mi senti uno straniero, non appartenente a questa realtà miserrima, dove si vive di vanaglorie, e da lì partì. La mia alienazione, o la mia presa di coscienza, dell'essere più coscienzioso e maturo degli altri, che intanto si indaffaravano, si scannavano, si scopavano nei bagnetti, e dicevano agli altri che non li cagavano, li sfotevano, poi c'erano quelli trombati, in quanto bocciati, quelli promossi, quelli angariati da genitori, handicappati, che però li volevano arrivati, con chi? Con la tavarra, lì, ecco, che poi, ecco, ho visto ragazzi suicidati, sì, ecco, e allora di notte vengono fuori gli animali più strani, no? E poi da lì è partita tutta la mia conoscenza, il mio approfondire la filmografia, l'escursus, diciamo, attoriale, registico-artistico di Bobby De Niro. Per chi non sa la verità, io devo sempre enunciarla, da qui se vince quel che sono, io non voglio vincere, non voglio essere sconfitto da chi, da chi è già vinto, trafitto, e si illude di essere importante in una società di persone appassionate di cinema, ma che si fidano di chi ha visto qualche film in più rispetto a loro, quindi vogliono essere ammaestrati e qui, insomma, tutti leccati, tutti. Allora De Niro, avete visto il film batte il tamburo lentamente, si ammala di qualcosa di oscuro, di visibile, o forse un ipocondriaco. Impietosamente il destino si infrange contro la sua salute già scagionata, no, no, forse precaria, cagionevole. Io sono un essere ragionevole. Il clan dei Barker di Roger Corman. Si narra anche che Shelley Winters abbia avuto un flirt da milfona, adesso vanno di moda questi porno, no? Da educatrice di De Niro, più che altro da imboccatrice. Oggi sposi, Brad De Palma, Hi Mom, Ciao America, greetings. The Untouchables, anche se il ruolo fu inizialmente quello di Al Capone, offerto a Boboskins. Ma De Niro seppe calarsi dei panni? del gangster, dell'era del proibizionismo in questa epopea dei Palmiana, indossando anche le mutande nel processo, diciamo, di identificazione d'acto studio. Allora poi sarebbe arrivato Marti Scorsese. De Niro ha ricevuto quante candidature agli Oscar? Sette. per Mistriz? No. Domenico in chiesa, lunedì all'inferno, Johnny Boy? Ma di mio potevo essere anche Johnny Depp. In Donny Brasco non c'è De Niro, c'è Al Pacino, è chiaro? Che te lo dico a fare? A voi da piccoli, come dice Lefty Ruggero Pacino, siete caduti dal seggiolone, miei bamboccioli. Allora, le candidature, allora, le vittorie di De Niro sono, per dire parte, secondo che ho fatto, parte di Festival Coppola, e come gli attori sono il protagonista, De Niro pensò che non avrebbe vinto, infatti è un grande stronzo De Niro, non si presentò a quella manifestazione degli Oscar e invece vinse. De Niro si presentò quando vinse per Regin Bull, era il favorito, dato per winner dagli allibratori che azzeccarono la previsione, insomma, interpretazione clamorosa, anche se quell'anno ebbe di fronte Robert Duvall col quale avrebbe recitato per Hulu Grossbard, La Soluzione, poi avrebbe recitato Mellie Streep, Innamorarsi sempre di questo regista, Falling in Love, poi John Hart, Elephant Man, vabbè, allora andiamo in ordine, cronologico, io sono logico, a volte sono illogico, a volte sono falotico, a volte non sono niente, ma credo che mi suiciderò a breve, frega niente, ho già scritto tanti libri e che devo fare di più, Frusciante mi schisse, tu non fai un cazzo, ma è giusto, io sono il principe, gli altri devono essere schiavizzati e devono offrire al popolo della maioetica, della retorica, ecco, allora, Padrino parte seconda, prima nomination, seconda per Taxi Driver, De Niro non si presentò, vinse l'Oscar postumo Peter Finch, non vinse Taxi Driver, vinse Rocky, miglior film, e non vinse Stallone, unica candidatura per questo Rocky e poi avrebbe avuto un'altra candidatura per Rocky come miglior attore non protagonista, fu sconfitto a Marco Reyes, Il ponte delle spie di Spielberg, però nello spin-off Creed. The Dear Heart, il 1978, Michael Cimino, non si presentò poi, toro scatenato, Risveglia Awakening, quell'anno vinse Geremie Aeros per il mistero von Badov, no, di Babel Schwerder, il regista di Barfly, dell'allergia dei sicchiari, no, Frusciante, e, inserzione pericolosa, Cape Fear, per il motore della paura, vinse l'Hector Anthony Hopkins per il silenzio degli innocenti, Jonathan Deme, col quale De Niro avrebbe dovuto girare On Me With Dairy, un progetto scritto, deve essere anche diretto da Paul Agus, regista di Crash, non quello di Cronomer, Cronomer Videodrome, con Bradley Cooper, ma il cambio della sceneggiatura non piacque a De Niro, Jonathan Deme poi è morto, De Niro, disse a Bradley Cooper, guarda, non mi convince, questa sceneggiatura a cui ha messo mano, anzi è stata stravolta dalla sceneggiatrice di Rachel Stape sposarsi con Hathaway, con la quale De Niro avrebbe poi girato lo stagista inaspettato in NC Mass, The Inter, con la quale forse, forse, non è ancora certo, girare Armageddon Time di James Gray, con Kate Blanchett, Donald Sutherland, è un fuoco assassino, no, lui ombra, e Sutherland è una versione un po' Hannibal Letter, no, De Niro è un personaggio un po' la Philip Marlowe, un po' l'Hanfrey Bogart dei pompieri, poi è uscita una biografia su Mike Nichols, regista, vedete, laureato, De Niro doveva girare Bogart Slept Here, cioè Bogart dormì qui, girarono molte scene, poi De Niro Litico, va, Cape Fear, quell'anno furono anche i candidati a Nick Nolte per il Principe delle Maree, eh sì, Nick Nolte è presente anche in Cape Fear di Scorsese, eh, grande sconfitto sempre Nick Nolte, è stato battuto per Affliction da Roberto Benigni, per Warrior ebbe la nomination, non protagonista, persa anche quella, no, poi Warren Beatty, Buxy, Warren Beatty, sapete che era la scelta numero uno per la parte di Bill, anche il Bill, poi la parte andò a David Carradine. E Robbie Williams, non quello di Risveglio Awakenings di Penny, Penny Marshall, De Niro aveva rifiutato Big che fruttò la prima nomination a Tom Hanks e poi per farsi perdonare, eh, perdiamoci, poi torneremo a Bradley Cooper, ehm, girò Awakenings, poi con Gary Marshall, capitano a New York, New Year's Eve, che non è così brutto come si dice in giro, un regista di Pretty Woman, di Paura Damargo, un alpacino Michelle Pfeiffer, però io potrei continuare a parlarvi per ore di Bobby De Niro. Bradley Cooper, allora, arriva David O'Russell, adesso sta girando David O'Russell, De Niro avrebbe dovuto girare una serie televisiva Amazon, non Netflix, Julianne Moore fu bloccato perché doveva essere prodotta da Amazon in concomitanza con Weinstein Company, subito dopo The Irishman, e niente, e Bradley Cooper disse, De Niro, ci sarebbe una parte per te in questo film di David O'Russell che gli fruttò la settimana nomination, appunto, il lato positivo Silver Linings Playbook, poi divennero amici, in realtà prima avevano girato Limitless di Neil Burger, eh, tratta da un romanzo di Dark Fields, no? Neil Burger era il registro di Delusionist con Edward North, con il quale De Niro ha girato a The Score, Stone, e vabbè, per The Irishman non ha ricevuto la nomination come miglior attore, bensì come miglior produttore, quindi è stato candidato per Best Picture, perché quando viene candidato il film, candidano il produttore, che De Niro, non solo lui, anche Scorsese, Jane Rosset, partner produttiva, cofondatrice della Troy Boyka Production. Allora, Killers of the Flower Moon, De Niro, leggetevi se volete il mio libro, lo trovate, sarebbe da aggiornare, da correggere, alcune modifiche andrebbero apportate a questo libro, mancano Joker, manca The Irishman, manca una certa filmografia, o forse c'è, e poi De Niro un po' si è perso, per strada, Red Lights, Rodrigo Cortese, regista di quel film con Ray Reynolds, Boreal e Sepolto, e poi film più o meno importanti, Stardust, Michelle Pfeiffer in Capitano a New York, c'è Michelle Pfeiffer ma non condivide con lei nessuna scena, Cose nostre ma la vita di Luke Besson, anni così, anni così, ma quanti anni sono passato da Little Focus, vi presento i nostri, cos'era, il 2010, 2011, tanti film, in mezzo c'è anche Manuale d'Amore 3, insomma De Niro che lavorò con Bertolucci per 900, nello stesso anno di Taxi Driver, infatti trovò la scusa che stava girando con Bertolucci o forse con Scorsese, New York, New York non si presentò agli Academy Award, è un bel volpino De Niro, è una volpe, sì sì, io sono l'uomo lupo, sto allestendo questo metraggio, voglio spostare popolazione dal giudicare solo i film, quindi vivere passivamente e glorificare il cinema, questa cosa assatta che si vede, si ammira ma non si tocca e non la si compenetra e basta, basta, ora ci siamo divertiti, però bisogna fare il passo evolutivo, non per mettersi in competizione e neanche alla prova, bensì per sperimentare nuove strade visive, percettive, prospettiche della realtà senza rimanere fermi alle proprie certezze e alla propria visione apodittica, assolutistica, dogmatica del cinema, della vita, di ogni poetica e forse anche di ogni scrittore che sono io. Pusciante mi disse, ti vuoi pubblicizzare tramite me? No, semplicemente gli regalai qualche mio libro, non so se l'abbia letto, credo di sì, aveva fatto della promozione sul mio John Carpenter, Prince of Darkness, ma io non voglio sfruttare nessuno, semmai sono io quello che viene sempre sfruttato dagli altri, che finché, insomma, adotto un metodo di totale simpatia a modi di Arthur Fleck, falottico va bene, quando il falottico comincia un po' a ingigantirsi a modi Orson Welles, allora bisogna spezzargli le gambe, ricattarlo e dirgli sempre, sì hai scritto 5.000 libri Stefano, però sostanzialmente, guarda che io mi faccio il culo, ognuno si vuol fare, si vuol fare, no, 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 e ognuno facesse quello che vuole, io sono dei fan di De Niro, sono proprio un borghese piccolo, vicino, microscopico, in caduta libera, sono Guy Renard, così, quando De Niro viene provocato e lì si spacca il cervello, gli girano le palle e fa così, e su musica dei di Nine Inch Nails, prima che Threat Rezzel si affiliesse a David Fincher, Bobby De Niro. E si asciuga il sudore dopo che nella sauna, convenizio, ecco, vabbè ma io perdono, io perdono perché sono un uomo superiore, io non ho bisogno di attestati, non ho bisogno che gli altri attestino, che io sia, scrivo per una testata, per qualche rivista, volete darmi delle testate? Io sono così, io sono certificato e acclarato che io sia un disgraziato, quindi, insomma, io non vado censurato, non vado ostracizzato, non vado oltraggiato, io vado reciso, no, no, io vado deciso per la mia strada, imperterito, non me ne frega niente, non me ne frega, io non devo accontentare nessuno, devo compiacere me stesso, per piacere, per cortesia, sì, 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 la borghesia, sì, il fascismo, il comunismo, perché il cinema è qua, è Netflix, basta, basta, dobbiamo progredire, do you understand?